I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di cinque indagati, uno agli arresti domiciliari, quattro interdittive del divieto temporaneo di esercitare attività professionale e imprenditoriale nel settore dell'insegnamento per 12 mesi. Sono accusati, a vario titolo, di estorsione e sfruttamento del lavoro. L'attività investigativa ha consentito di delineare un grave quadro indiziario in ordine alle condotte estorsive di sfruttamento che gli indagati avrebbero posto in essere in concorso e con ruoli differenti in qualità di amministratori e gestori di una cooperativa esercente attività di istruzione secondaria di secondo grado in due istituti paritari di Cefalù e Termini Merese. In particolar modo, l'indagine, iniziata nel gennaio 2023 e condotta dai militari sotto la direzione della Procura di Termini Merese, ha delineato le modalità di assunzione e impiego in condizioni di sfruttamento adottate dagli indagati nei confronti di docenti e personale ATA, tratteggiando un disegno criminoso realizzato dai presunti autori sin dal settembre del 2019. Le vittime, obbligate mediante minaccia oppure agevolate dalla necessità di ottenere i punteggi per accedere alle graduatorie pubbliche per le successive assunzioni, nonché dal loro stato di bisogno connesso alla crisi economica e occupazionale, avrebbero prestato la loro attività lavorativa in difformità e in misura sproporzionata alla contrattazione nazionale e anche a titolo gratuito, restituendo la retribuzione formalmente ottenuta per il lavoro prestato. Tale dinamica sarebbe stata individuata per 118 dipendenti della cooperativa, in quanto gli indagati avrebbero operato a vantaggio della stessa mantenendo bassi costi di gestione e massimizzando i profitti. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo 65.300 euro in contanti rinvenuti presso le abitazioni degli accusati e all'interno degli istituti paritari riconducibili alla cooperativa e custoditi in alcune circostanze dentro buste con elenchi nominativi del personale dipendente.